L'Associazione Culturale L'Aquila Siamo Noi a San Pietroburgo in Russia, al nono forum culturale internazionale che si terrà dal 16 al 19 novembre. Una grande occasione, ancora una volta, per promuovere l'aquila e la cultura nel mondo e anche per continuare a tessere le relazioni. La nostra associazione culturale è stata invitata dal Ministro della Cultura della Federazione Russa, signora Olga Lyubimova, che ringrazio per l'attenzione, diciamo, è un riconoscimento dell'attività di ponte culturale che la nostra associazione svolge tra la città dell'Aquila e la Federazione Russa oramai da molti anni, con varie iniziative congiunte con le ambasciate della Russia presso l'Italia e presso la Santa Sede. Il forum sarà non solo una vetrina importante, perché ci saranno delegati e personalità di spicco del mondo culturale e istituzionali provenienti da 70 paesi. Noi la vediamo in un'ottica di grande opportunità per la città dell'Aquila, proprio per continuare a tessere, diciamo, dei rapporti culturali che proiettino l'Aquila in una dimensione internazionale. E proprio il vicepresidente Alfredo Ranieri Montuori sarà relatore di una delle tavole rotonde previste con un intervento su un compositore russo. Mi è stato anche comunicato che devo essere uno dei relatori sulla tavola rotonda che è dedicata al 150esimo anniversario della nascita di Sergei Rachmaninov, che è un grandissimo compositore per pianoforte russo. Tra parentesi io sono un grande estimatore di Rachmaninov e quindi racconterò sia della modernità stilistica di questo compositore russo e soprattutto, diciamo, sarà anche un'occasione per raccontare, diciamo, il progetto dei concerti dell'amicizia che noi teniamo ogni anno presso il Centro Culturale Russo, che oggi si chiama Casa Russa a Roma, che ha ospitato in questi anni eccellenze musicali aquilane e il 23 faremo un concerto appunto che si chiamerà Rachmaninov 150 con Alessandra Di Gennaro e Michele D'Ascenso, due pianisti giovanissimi aquilani, proprio in onore di questo grande compositore.